La coltella è un coetaneo dopo una discussione avvenuta per futili motivi, 25 anni arrestato dai carabinieri. Grande festa domenica in cattedrale a Fermo, Monsignor Andrea Andreozzi è stato consacrato Vescovo di Fano, Fussondrone Caglipergola. Al Vallato di Fano il 29 giugno si inaugura la nuova casa della comunità intitolata Don Paolo Turucci, illustrato il programma di iniziative in concomitanza con la festa del patrono della parrocchia di San Paolo Pottolo. A Tavernello e di Colli al Metauro rimosso il ponticello ciclopedonale sul rio Barzotto, chiuso dal 2021, verrà demolito e sostituito con una struttura in acciaio. Si è conclusa con grande successo la seconda edizione di Generazione Futuro Festival, un evento voluto dalla fondazione Carifano e rivolto alle nuove generazioni. Il Fossombrone riscrive la storia e dopo 12 anni torna in Serie D, esplode la gioia allo stadio Bonci grazie alla doppietta del bomber germinale che firma la vittoria contro la Gazzanese. Lunedì 19 giugno, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. I carabinieri della compagnia di Fano hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne di origine albanese ma residente a Colli al Metauro, ritenuto responsabile del tentato omicidio aggravato di un coetaneo. Il fatto è avvenuto il 14 giugno di fronte ad un bar del comune Metaorense, erano circa le 6 del mattino quando il 118 ha informato la centrale operativa di Fano che stavano trasportando d'urgenza all'ospedale di Pesaro un 24enne che presentava due ferite da taglio, un al torace e l'altra all'addome. I militari, grazie alle immagini di videosorveglianza del locale, hanno subito identificato l'aggressore che è stato poi rintracciato nella sua abitazione. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di stabilire che il 25enne, dopo aver avuto un'animata discussione per futili motivi con la vittima incontrata nel bar, è tornato a casa e armatosi di coltello è tornato nei pressi dell'esercizio. L'aggressore, dopo essersi coperto il capo con il cappuccio della felpa, ha colpito il 24enne con due fendenti, mentre quest'ultimo era intento a riprendere la sua autovettura. Tenuto conto della gravità delle lesioni riportate dalla vittima e che le stesse avrebbero potuto danneggiare i suoi organi vitali, il 25enne è stato subito arrestato e portato nel carcere di Pesaro. Risponderà anche della violazione del divieto di fare accesso a locali pubblici della provincia di Pesaro Urbino, autorizzati alla somministrazione di alcolici, a cui è risultato sottoposto per dei fatti di cui si era reso responsabile la notte di Capodanno all'interno di una discoteca. Duomo di Fermo ha gremito ieri per l'ordinazione episcopale di Don Andrea Andreozzi, 55 anni, consacrato vescovo di Fano, Fossombrone e Cagli Pergola. Vediamo il servizio che è stato curato da Massimo Foghetti. Da domenica scorsa Fano, così come le città di Fossombrone, Cagli e Pergola, hanno un nuovo vescovo. Secondo l'ordine cronologico stabilito dalla diocesi di Fano, Andrea Andreozzi è l'ottantaseesimo vescovo della città, a cominciare da Tolomeo, discepolo di San Pietro, che morì martire nel 74 d.C. Dopo di lui furono pastori dell'antica Fano un fortune, Eusebio, la cui esistenza però incerta, un vescovo di cui non si conosce il nome e quindi San Paterniano, che poi fu scelto come patrono della città. In seguito è lunga la lista dei vescovi che guidarono la chiesa di Fano, svolgendo non di rado anche un ruolo politico, nei momenti in cui questo, dai legittimi detentori, vacillava, salvando la città da gravi disastri. Dal dopoguerra ad oggi hanno retto la diocesi Vincenzo del Signore, che durante la ritirata dei tedeschi assunse anche il compito di podestà, Costanzo Micci, Mario Cecchini, Vittorio Tomassetti, Armando Trasarti e ora Andrea Andreozzi. Andrea Andreozzi è stato consacrato vescovo su indicazione di Papa Francesco dal vescovo di Fermo, la diocesi che lo ha visto operare da prete, Rocco Pennacchio. Presenti il cardinale Gualtiero Bassetti, molti vescovi delle Marche dell'Umbria, la regione in cui Don Andrea ha svolto il ruolo di direttore del seminario regionale Umbro. Folta anche la presenza di preti, diaconi e fedeli, partiti da tutte e quattro le località della diocesi, insieme al sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha seguito, come lui stesso ha dichiarato, commosso il rito. Fano TV ha trasmesso in diretta tutta la cerimonia, per cui anche chi è rimasto a casa ha potuto seguire questo evento importante, per tutte le comunità delle valli del Metauro e del Cesano. Il momento culminante ha visto Monsignore Andreozzi stendersi su pino a terra, su un tappeto rosso disteso di fronte all'altare, in un momento di grande raccoglimento. Quindi il Vangelo, pendente sul capo, riferimento e guida della sua missione, poi l'unzione con l'olio santo, l'imposizione delle mani, la consegna della mitra e del pastorale, momenti culminanti vissuti con grande partecipazione e intensità. Nel corso della cerimonia è stata letta la bolla papale, con cui si comunica la nomina del nuovo Vescovo. Francesco, Vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Andrea Andreozzi, sacerdote dell'Arcidiocesi di Fermo e finora rettore del seminario Umbro, eletto Vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, salute e benedizione. Ti nominiamo e costituiamo Vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, sostenuto dall'aiuto divino e con l'assistenza della Veata Vergine Maria, sempre più chiaramente ti impegnerai a manifestare i salutari insegnamenti e il lieto annunzio del Signore misericordioso. Quindi l'omelia pronunciata da Monsignor Pennacchio è stata incentrata sulla figura del Vescovo e sul suo compito di diffondere il Vangelo. Il Vescovo è chiamato a predicare il Vangelo con fedeltà e perseveranza. Per questo il Libro dei Vangeli verrà tenuto aperto sulla testa dell'ordinando durante la preghiera di consacrazione. E' chiamato a custodire il deposito della fede in comunione con gli altri Vescovi e in filiale e obbedienza al Papa. E' colui che si prende cura del popolo santo di Dio e insieme ai presbiteri e ai diaconi lo guida alla salvezza. Il Vescovo è attento ai poveri che sono immagine di Cristo e si interessa di quanti si smarriscono per edificare in unità il suo corpo che è la Chiesa. A questo punto la celebrazione della liturgia è proseguita nella forma solenne finché Monsignore Andreozzi, ringraziando tutti, non ha preso la parola. E' stato un intervento che ha emozionato il pubblico per l'ampiezza del suo orizzonte e la profondità del suo pensiero. Un pensiero che è volato sulle stelle. Che cosa c'entra tutto questo con le stelle? Mi è servita questa frase per recuperare il cielo, per recuperare la luce migliore che ognuno di noi può riflettere davanti a Dio. E il cielo restituisce ad ognuno di noi la voglia e il gusto di fare luce, di esprimere la parte migliore di noi stessi. E nel cielo, in cielo, c'è posto per tutti, grazie a Dio. Per fortuna che ci sono le stelle e che il nostro cuore si allarga sempre e guarda ad orizzonti infiniti, guarda ad orizzonti sempre nuovi. Infine, il saluto al suo gregge, la discesa sulla navata, la benedizione dei fedeli, dove è scatorito un applauso spontaneo che ha comunicato l'immediato affetto e simpatia suscitate tra il pubblico dal nuovo presole. E così Fano si appresta a riceverlo il 9 luglio prossimo al Pincio, all'ingresso monumentale della città. Al Vallato di Fano la prossima settimana si inaugura la nuova casa della comunità intitolata Don Paolo Tonucci. Questa mattina è stato presentato il programma di iniziative in concomitanza con la festa del patrono della parrocchia di San Paolo Apostolo, servizio di Filippo Pucci. Sarà una settimana ricca di iniziative alla parrocchia del Vallato di Fano per l'inaugurazione della casa della comunità prevista per giovedì 29 giugno, alle ore 20, dopo la messa preseduta dal Vescovo alle 18.30. Ultimi ritocchi dunque per l'apertura al pubblico e ai ragazzi della nuova struttura all'avanguardia realizzata interamente in legno, antisismica, completa di impianto fotovoltaico, illuminazione a LED e una pompa di calore per permettere il riscaldamento e l'aria fresca. Notevoli i numeri, 900 metri quadri totali di cui 600 al piano terra e 300 al primo piano, 200 metri quadri di salone e 8 stanze per il catechismo, 8 bagni e un magazzino circondato da prati verdi e un parcheggio per auto. Costo totale dell'edificio 1.300.000 euro circa suddivisi dal 75% dal contributo dell'8 per 1000 della CEI e col supporto della diocesi, della parrocchia insieme ad altre realtà locali e regione Marche. La casa della comunità è stata intitolata Don Paolo Tonucci, prete della nostra diocesi, scomparso nel 1995 che ha dato tanto nella sua vita per la missione. Abbiamo voluto dare all'inaugurazione anche un titolo essere chiesa aperta. Credo che questa sia la caratteristica che ogni comunità parrocchiale in un territorio deve avere, quello della fraternità e dell'apertura da una parte per accogliere tutti ma dall'altra anche per essere un segno piccolo per le altre istituzioni. E questo lo facciamo proprio dando a questo edificio il nome di casa. La casa è accogliente, la casa non ha barriere e accoglie tutti. Del resto una mia frase che io porto sempre è che quando ti nasce un figlio non sai chi ti metti in casa. Ecco, i genitori sono aperti. Così questa casa della comunità e che questa casa possa essere un lievito perché possiamo veramente accoglierci e sperimentare la bellezza dell'essere insieme e del costruire veramente un mondo fraterno. Nel 2021 la posa della prima pietra mentre lo scorso anno l'inizio dei lavori. Alla conferenza presenti il parroco, il consiglio pastorale e parrocchiale, gli ingegneri e la ditta dei lavori. Nutrito il programma di iniziative dal 26 giugno fino al 3 luglio. È vero che è la festa della parrocchia del patrono della parrocchia del Vallato ma l'invito è per tutta la città di Fano. Ci teniamo. Insieme nel programma abbiamo creato collaborazioni e contaminazioni positive insieme a tante realtà che ruotano attorno il panorama fanese come il CSI, l'associazione di tennis da tavolo, la cooperativa Tre Ponti, il San Costanzo Show. Insomma, ci sono tanti ingredienti. Chiaramente oltre al 29 giugno dove ci sarà l'inaugurazione quindi invitiamo tutti quanti un'altra serata importante è quella del primo di luglio. Quindi sabato ci sarà una bella festa in piazza insieme dove ci sarà la possibilità di mangiare, di divertirsi con il San Costanzo Show, i bambini si possono divertire con i gonfiabili e ricordiamo per tutte le serate della festa ci sarà una pesca allestita qua all'interno della Casa della Comunità con 2000 premi per tutti. Ecco, quindi ci sono tutte le condizioni per aiutare, per divertirsi ma anche per aiutare il nostro progetto. Ed ora guardate queste immagini realizzate dai Vigili del Fuoco che questa mattina sono intervenuti e accogli al Metauro per recuperare un vitello caduto in una scarpata. Le operazioni sono state effettuate con l'ausilio dell'elicottero del reparto volo di Arezzo assistito a terra dalla squadra di Fano e dal veterinario che ha collaborato nelle fasi preliminari. Il vitello è stato poi riconsegnato al proprietario. Rimaniamo a Cogli al Metauro perché questa mattina a Tavernelle è stato rimosso il ponticello ciclopedonale sul rio Barzotto adiacente alla Flaminia. Verrà demolito e sostituito nei prossimi mesi con una struttura in acciaio. Era stato chiuso per motivi di sicurezza nel giugno 2021 dopo aver dato segni di cedimento ed oggi il ponticello ciclopedonale in legno sul rio Barzotto a Tavernelle di Colli al Metauro è stato rimosso al fine di consentirne la sostituzione. Per permettere le operazioni disposte dall'amministrazione comunale il tratto di Flaminia interessato dai lavori è stato chiuso al traffico. Oggi sono partiti i lavori quindi a breve solleveranno e trasporteranno integralmente questo ponte e verrà sostituito da un nuovo ponte completamente in acciaio di conseguenza con una manutenzione e una durabilità più lunga rispetto al ponte che precedentemente insisteva in questo posto. Quali sono le tempistiche? Le tempistiche da contratto dovrebbero essere sui tre mesi però ritengono l'impresa che lo sta realizzando che nell'arco di due mesi dovrebbe essere installato il nuovo ponte adesso non hanno iniziato i lavori proprio perché prenderanno le misure in maniera precisa una volta rimosso questo ponte e poi procederanno alla realizzazione del ponte completamente in acciaio ripeto e poi verrà installato. Mettendo così in sicurezza i pedoni? Mettendo in sicurezza i pedoni e soprattutto avendo un ponte che avrà come ripeto una necessità di una minor manutenzione di conseguenza avrà una durabilità nel tempo sicuramente maggiore qualcuno si è stupito dell'importo di questo contrattuale di questo intervento che da quadro economico è su 297 mila euro però lo ritenevamo necessario proprio per far sì che un domani non ci sia necessità di sostituire il ponte che ha durato troppo poco essendo stato realizzato questo nel 2004 e chiuso nel 2021. Michele che ora sono partite le operazioni questa mattina? siamo iniziati alle 7 di questa mattina con due autogru e i ragazzi che stanno svitando le viti di fissaggio del ponte un pari d'ore penso che riusciamo a movimentarlo nel frattempo prenderemo le misure per eseguire il nuovo ponte che sarà in corten quindi materiale che si autoprotegge in travi principali da 1000 mm quindi un metro alto e calpestio sempre in corten e balaustra. Le operazioni di rimozione poi si sono concluse prima del previsto il ponticello posizionato su un mezzo per il trasporto eccezionale verrà demolito Cambiamo argomento la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Lucia Tarsi oggi intervenuta sui lavori annunciati da tempo ma ancora non avviati in Viale Kennedy a Fano nell'attesa che vengano eseguite la messa in sicurezza della pista ciclabile e le modifiche ai parcheggi la consigliera chiede di intervenire almeno sul rifacimento della linea che delimita la ciclabile e che ad oggi rende pericoloso il passaggio di pedoni e ciclisti Del progetto di riqualificazione di Viale Kennedy se ne è parlato anche la scorsa settimana in consiglio comunale mediante una sua interrogazione Tarsi che cosa ha chiesto alla giunta? Abbiamo chiesto alla giunta di essere informati sullo stato dell'arte del progetto di riqualificazione di Viale Kennedy un progetto che ha una lunga storia perché c'era stato presentato è stato presentato alla città in marzo 2022 e poi se ne sono perse le tracce e quindi siamo andati a chiedere a che punto siano la progettazione e i lavori di fronte alla risposta che la progettazione comunque diciamo l'inizio dei lavori potrebbe avvenire intorno all'autunno ecco noi siamo andati a chiedere a sostenere che in realtà bisognerebbe intervenire immediatamente perché le condizioni attuali di Viale Kennedy non sono condizioni di sicurezza allora va detto innanzitutto che Viale Kennedy è una via ad alto traffico ci passiamo tutti per andare dai quartieri interni verso le zone di Lido e Arzilla è una strada un percorso obbligato per chi deve andare verso i licei è un percorso obbligato per chi deve andare nel parcheggio per esempio del cimitero urbano gli abitanti di Trave del Poderino lo frequentano tutti i giorni e quindi è una strada ad alta percorrenza soprattutto quando c'è la scuola alle 8 di mattina alle 13 ci sono molti ragazzi a piedi in bicicletta in motorino che la frequentano ora è necessario assolutamente ripristinare subito prima che inizino i lavori per mettere in sicurezza almeno l'estate la ciclabile che non è più ha fatto segnalata quindi le macchine passano per la strada anche sulla ciclabile ma semplicemente perché non la vedono la ciclabile la ciclabile è come se non ci fosse ci sono spesso delle auto parcheggiate in maniera selvaggia e a volte addirittura sul lato diciamo del canale che impediscono proprio il transito dei pedoni e delle bici e c'è una terza criticità molto importante che è rappresentata dall'uscita da via Morosi quindi chi da via Morosi si deve mettere su Viale Kennedy girandosi sulla destra purtroppo non vede le macchine che stanno arrivando e quindi abbiamo chiesto due interventi semplici che possano almeno mettere in sicurezza l'estate riverniciare il tracciato della ciclabile e mettere uno specchio in corrispondenza di via Morosi in modo che chi esce da via Morosi possa vedere chi arriva alla sua destra La Lega Fano invece ha presentato un'interrogazione sull'inquinamento acustico nel centro storico e sul lungomare generato durante le manifestazioni pubbliche all'aperto gli interventi ha spiegato Luigi Scopelliti richiedono controlli tempestivi ma una volta ricevuta la segnalazione la polizia locale che ha il compito di intervenire deve fare riferimento al supporto dei tecnici dell'ARPAM che è l'ente con competenza in materia ma a causa della mancanza di personale per cui ARPAM non ha rinnovato la convenzione con il comune di Fano il controllo è del tutto inefficace i consiglieri rimarcano che non c'è da parte loro un'avversione agli eventi e che anzi ritengono vadano supportati ed estesi nell'arco dell'anno oltre a questo rivendicano la necessità che ci siano regole condivise che vadano rispettate nell'interrogazione la Lega chiede di rivedere il regolamento delle deroghe e chiede se la Giunta abbia cercato un luogo preposto agli eventi all'aperto con minor impatto sui cittadini ora ci spostiamo ad Ancona dove si è svolto il quarto appuntamento del progetto obiettivo sostenibilità che ha coinvolto università imprese e istituzioni vediamo come è andata nel servizio di SR Musco oltre 50 imprenditori al B2B sinergie sostenibili organizzato presso il centro direzionale di confartigianato di Ancona Pesaro Urbino l'appuntamento è stato il quarto degli eventi del progetto obiettivo sostenibilità partito lo scorso marzo grazie a un'importante collaborazione tra università politecnica delle marche istituzioni e amministrazioni del territorio il progetto è stato di gran contributo alle imprese per una riflessione sulla sostenibilità in cui sono stati coinvolti il mondo della ricerca delle istituzioni e delle imprese gli imprenditori che hanno aderito a questo progetto hanno intrapreso azioni e scelte sostenibili per confrontarsi con mercati sempre più competitivi ed esigenti il B2B ha consentito alle imprese e partecipanti di avere incontri personalizzati con 15 realtà del territorio tutto l'intero percorso è stata un'opportunità per le imprese per scambiare conoscenze visionare i prodotti e servizi utili e migliorare i percorsi di sostenibilità durante i quattro incontri si sono create relazioni tra i soggetti interessati alla sostenibilità permettendo la crescita di progetti finalizzati e aiuto all'impresa del territorio sono 15 postazioni di lavoro di altre tante aziende che si sono prestate messe a disposizione per dare chiarimenti per rispondere a quelli che possono essere gli interessi appunto delle imprese che vogliono partecipare si va dalla mobilità elettrica la welfare aziendale la vendita la fornitura di energia e di gas per quanto riguarda il nostro consorzio Cempi tutta una serie insomma di argomenti comunità energetiche aziende che producono che fanno efficientamento energetico impianti fotovoltaici quindi tutto quello che può servire interessare a un'azienda per poter competere al meglio in quella che è ormai una sfida mondiale anche dal punto di vista della sostenibilità che ormai è un tema fondamentale per ogni tipologia di impresa sostenibilità noi diciamo dal punto di vista aziendale è tutto quello che serve per poter veramente competere nel futuro è molto importante che cerchiamo di rimarcare il fatto che anche le piccole imprese sono molto sensibili da questo punto di vista e in particolare forse per le piccole imprese è un tema veramente fondamentale quindi questa è una sensibilità che hanno gli imprenditori ma soprattutto la cosa che ci ha fatto più onore possiamo dire così è stata l'attenzione alla sostenibilità sociale è stato il nostro primo incontro e veramente lì c'è molto interesse sia per migliorare l'ambiente di lavoro ma per rendere anche come dire più soddisfatti i nostri collaboratori torniamo a Fanno per parlare della seconda edizione di Generazione Futuro Festival durante l'evento organizzato dall'Agenzia Comunica e sostenuto dalla Fondazione Carifano si è parlato di temi d'attualità come il digitale e lo storytelling Marco Lonigro si è conclusa la seconda edizione del Generazione Futuro Festival un evento che viaggia al passo con le nuove generazioni sostenuto dalla Fondazione Carifano è un'opportunità di confronto tra nuove voci idee e prospettive che si esprimono su temi di rilevanza attuale come il digital e lo storytelling la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano crede e vuole investire sui giovani quest'anno Generazione Futuro è il secondo appuntamento tutto dedicato ai giovani e quest'anno si parlerà di digitale e di storytelling digitale e storytelling che sono due delle importanti dei temi più importanti della nostra attualità e i giovani avranno la possibilità di confrontarsi con ospiti a livello nazionale che parlano con questo linguaggio tre giorni per la seconda edizione di Generazione Futuro Festival tre nomi importantissimi Marco Maesano Maurizio Merluzzo e domenica chiudiamo con Federico Buffa quindi assolutamente da non perdere il modo di avvicinarsi ai giovani Generazione Futuro i personaggi che i giovani incontrano tutti i giorni nel cellulare a portata di mano qui a Fano che li incontrano parlano con loro i giovani si incontrano e questo diventa un bel modo di fare città e poi anche un motivo per promuovere il territorio un bel modo di promuovere il territorio perché non solo i giovani fanesi ma coloro che stanno in altre città e coloro che stanno in altre regioni conoscendo progetti di questo tipo ci vengono a trovare incontrano i giovani di Fano e da questo nasce turismo nasce comunità nasce economia quest'anno l'iniziativa si è svolta nella corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani a Fano e tre ospiti di rilievo sono stati i protagonisti di Talk davvero interessanti è fondamentale che ci siano iniziative di questo tipo perché è fondamentale che i ragazzi più giovani riescano a trovare degli spazi dove confrontarsi dove magari ascoltare la testimonianza in questo caso la mia di chi diciamo non è proprio più giovane ma si ricorda bene ancora quando giovane lo era per davvero insomma quindi bene e viva questo festival sono stati giorni importanti per la città di Fano anche grazie alla presenza della squadra del calcio mercato l'originale un programma targato Sky Sport condotto da Alessandro Bonan e seguitissimo per via delle numerose notizie di mercato diffuse nel corso della trasmissione dal noto giornalista Gianluca Di Marzio come è stata l'accoglienza qui a Fano? è stata un'accoglienza devo dire molto molto affettuosa ma anche molto composta è stata molto sensibile non me l'aspettavo perché vedere così tanti ragazzi la sera a mezzanotte venire a seguire i collegamenti volersi sentire partecipi di un programma in una città dove il calcio ha raggiunto al massimo livelli non da serie A e che tuttora si trova in serie D però ecco vedere comunque la passione per il calcio mercato ci ha lasciato sicuramente una grande soddisfazione e anche un grande orgoglio quindi siamo molto felici di essere venuti e speriamo di tornare presto speriamo soprattutto di aver accontentato tutti quelli che sono venuti anche soltanto per una foto per un saluto speriamo anche noi di aver ricambiato con la nostra gentilezza con la nostra cortesia adesso il calcio con il fosso ombrone che ieri ha scritto la storia grazie a una doppietta di germinali i biancazzurri hanno vinto per 2-1 contro la gazzanese e dopo 12 anni tornano in serie D in uno stadio bonci gremito di tifosi esplosa la gioia compresa quella del sindaco che era presente alla partita sentiamo le parole che il mister Michele Fucili ha rilasciato dopo la gara è stato l'esempio di tutto l'anno ma anche di questi 4 anni perché alla fine già siamo partiti con Pagliari che l'abbiamo preso nel riscaldamento il giocatore un po' simbolo della squadra il capitano e si è fatto male due minuti prima di entrare quindi quello già faceva per esagire che partita ci aspettasse dovevamo fare invece siamo stati dai bravi abbiamo sofferto un po' l'inizio per prendere le misure però poi abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio ci siamo andati poi nel secondo magari quando fai il 2-0 c'è un attimo che ti puoi anche un po' rilasciare c'è stato questo rigore che l'ha riaperta e quindi alla fine abbiamo sofferto fino alla fine però intanto senza soffrire si ottiene poco sono molto contento perché dai credo credo che ce la meritassimo al di là di questa partita io la mia valutazione generale quattro anni che ci proviamo senza sillie però sai quando arrivi sempre vicino all'obiettivo e fai fatica a prenderlo ci rimane sempre un po' di amaro invece la bravura nostra è stata quella sempre di ripartire e provarci e provarci comunque perché quest'anno insomma perdere il campionato l'ultima giornata per un punto poteva ammazzare a tutti invece abbiamo vinto i nostri play-off abbiamo vinto due play-off nazionali insomma sembrano cose spuntate ma non lo sono e anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Renzo Rossi e Silvana Moscatelli residenti a Sant'Orso di Fano che sabato scorso 17 giugno hanno festeggiato 50 anni di matrimonio davvero auguri tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato a B2B Sinergie Sostenibile organizzato da Confartigianato Imprese di Ancona Pesaro Urbino l'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle 7 con la nostra Rassegna Stampa buona serata a tutti Grazie a tutti